E' un nuovo test che non può superare. Io ho sempre cercato la sola cosa per cui valessi una fine notte. Siete su Pandora. Qui c'è una popolazione indigena. E' per questo che siamo qui. Il mio villaggio casualmente è situato sul più ricco di questi depositi. Siamo sull'orlo della guerra e tu dovresti cercare una soluzione diplomatica. Sono un risultato di DNA umano, mischiato al DNA degli indigeni. Un marine in un avatar body. That's a potent mix. Dammi quello che mi serve e io farò in modo di farti guarire le gambe. Rilassati e svuota la mente. Non dovrebbe essere difficile per te. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro consulente musicale preferito, nonché Pifferaio Magico. Hi everybody, for Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Voglio che ti guadagni la loro fiducia. Sì, questo è chiamato l'Avatar. Team Avatar. Fin del 2009. Scritto e diretto e coprotto e che ho montato da James Cameron. Fenomenale. Non è che ti sei perso nel bosco, vero? You'll forget what team you're playing for. Strong will pray for weak. He knows he doesn't need to. You got me. Satevi che sarebbe successo? È cambiato tutto. Jake, it's crazy here. Orich is rolling and there's no stopping him. Andiamo contro dei bombardieri con archi e frecce. E allora sarà meglio fermarlo. Avatar marked as James Cameron's Avatar. The 2009 American epic science fiction film. Non possono prendersi tutto quello che vogliono. But we will send them a message. Death is... Questa è la nostra terra. Un film di fantascienza interpretato da Sam Worthington, Stephen Lang, Zoe Saldana, Signal Weaver, Giovanni Ribisi e Michelle Rodriguez. Il film è stato proiettato nel tradizionale formato 2D, ma ha visto anche un'ampia diffusione in 3D e in 3D Max. Lo stesso Cameron, in quanto fonte forte e sostenitore del 3D come futuro del cinema, ha dichiarato che si avrebbe avuto un'esperienza più completa guardando Avatar in tre dimensioni, poiché il film è stato da lui appositamente pensato per essere visto in quel modo. Un happy science fiction film directed and written produced and co-edited by James Cameron starring in Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Signal Weaver. Il film è stato in mid-20s century, quando gli uomini sono colonizzati in Pandora. A lush, habitable moon of a gas giant in the Alpha Centauri Sass system in order to mine the manual on a batte moon, a room temperature of a superconductor. This function of the mining colony threatens the continued existence of a local tribe of Navy, a humanoid species indigenous to Pandora. The film's title refers to a genetic engineer in the Navy body operated. And this is a great movie. Bellissimi effetti speciali, miglior fotografia, miglior sceneggografia, miglior effetti speciali, premi Oscar 2010. Il film ha stabilito diversi record di incassi, diventando anche il film con più incassi nella storia del cinema, venendo superato nel 2019 da Avengers Endgame, tornando poi al primo posto in classifica nel 2021. I hope you enjoy this program about Avatar. Ciao a tutti da Marco Domenicone. Marco Domenicone leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domenicone leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domenicone leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes